Luca Benersoli dopo la scoda di André Carrello Bertinze, eccoci con la Citroën, la Citroën DS3 per dare via alla Citroën DS3, 300 cavalli di potenza, 1.6, 4x4, 1 ed è la seconda dopo scoda vediamo dunque Citroën e dopo Citroën, eccoci qui con il Hyundai Luca Rossetti e il primo avventura il tricolore che sventola, partite, partite è partita la terza vettura, tre vetture diverse ed ora è la prima VWC, eccola allora direi quattro vetture, quattro diverse qui siamo a fondo, in continuo, in continuo soprattutto dei particolari legati all'impianto faiante e l'aspirazione che permette di erogare davvero il maggior numero di cavalli sui intercenti cavalli di potenza mentre sono tornati sulla percina, ecco le vigine e adesso sono tornati sulla percina eh, sono tornati sulla percina gente, poca attenzione perchè sale sul palco di partenza un pilota da un equipaggio che a nostro giocatore ha perso per il segreto di colore come simbolo certamente attenzione al personaggio che si è andato giuseppino giuseppino anche questa mattina si è andato bene gli ospiti che soggiorano per giorni e giorni e gli attacchi che hanno avuto l'unico la scuola è l'unico dotato del massimo coefficiente di portanza e siamo con il reggiano Ivo Fremonti con il prezzo in fronte e sono quattro punti strategici di massima importanza e sono tutti i passi diverte con lo spirito non direi accanito di accanimento folle lui corre per divertirsi non sa più se è luinese oppure freulano come mai sei qui Andrei stai preparando la finale e abbiamo bisogno di capire un po' meglio questa squadra è un po' di cose soprattutto non per Mara Balcari per resta non so più se è uno stia fatta un fisioterapista un ragazzo e un gente non so più se è uno stia fatta quindi è anche inserire che è il suo freno iniziale che è il suo freno che è iniziale che è iniziale Sì, vediamo un personaggio che non è più un ragazzino ma in realtà fa ragazzina, andiamo in fondo. Eccoci, abbiamo Pierangelo, Pierangelo Mini con un grande navigatore. ...di appassionati che danno il via. Eccoci, abbiamo Pierangelo Mini con un grande manager, già raggiunto qui in piazza, in piazza Cavour, è un comasco doc che segue il territorio. ...dietro, mentre il barco è chiamato... ...dietro... 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 ...en gran pista volante, quando vedete che ci si sta... ...dietro... 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 ...e così in Tiziana. In Tiziana di solito. come venite esattamente? il lago la categoria R3C e adesso andiamo giù la R3C eccoli qui abbiamo ora Max Spina e Sara Castelli numero 3 Mauri e allora andiamo a contarli Gabriele Masciani e Federini Mauri Alessandro Forst Fiesta R2C poi diretti e poi abbiamo anche il Miranilla e poi abbiamo anche il Miranilla e poi abbiamo anche il Miranilla e l'italiano e l'italiano e l'uscita è qui Nember Rosa Jessica Rosa e Graziano Nember che gareggia per l'italiano un'ottima esperienza un'ottima esperienza un'ottima esperienza l'obiettivo mi pare il vostro è quello del Michelin Noi siamo a 12 siamo a 12 del Miranilla per la casa per la casa un'ottima esperienza Poi il palcoscenico tricolore si dè, tributagonista, cosa vuoi spettare? Cazzola, eccole qui, sempre nella R2B Rally Team Anche per voi c'è l'iscrizione Poi c'è l'iscrizione Poi c'è l'iscrizione E' un'area di passaggio A cazzo e tuta e via per un'altra intensa giornata Poi inordine Poi inordine L.S. Kiko e Alessandro Ciclo con la Citroen Cigone numero 48 R2000 la Toyota Yaris categoria R1T nazionale 4x4 scuderia blue tender eccolo qui Civelli come Mattia buona buona buona